Facciamo questo accordo di collaborazione tra i due istituti e il Comune di Ferrara perché anche lì andiamo a promuovere la nostra missione che è quella di sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue. Credo che sia un'altra tappa importante per aprire l'Avis verso la città non solo ma anche per la ricerca di questi nuovi donatori che già vengono questi giovani a donare però questo rapporto diventa ancora più importante perché in questo modo possiamo andare nei loro istituti soprattutto sia al Conservatorio sia anche alla Scuola di Musica a fare questa che è la nostra missione in formazione per l'adorazione del sangue. Allora poi le iniziative in futuro saranno anche quelle è vero con loro di fare alcuni progetti credo che in questi progetti ci sia un partner esenziale che sia il Comune di Ferrara sicuramente con l'assessore e vice sindaco Maisto credo che sarà una strada che percorreremo in futuro perché questi progetti servono anche soprattutto a valorizzare la nostra città ma non solo a Ferrara cercheremo di portarli anche fuori se possibile con tutti questi soggetti importanti perché i nostri giovani sono così voglio dire danno un valore aggiunto è vero anche fuori nei nostri gemellaggi che faremo e sicuramente questo è un altro aspetto positivo di oggi che sarà una giornata bellissima poi ci sarà anche un'esebizione di alcuni di questi giovani gruppi di questi giovani qui all'Avis che ci faranno sentire e soprattutto ascoltare quelle che sono le loro esibizioni che sono importantissime sarà anche un momento di musica e di allegria Grazie